Ancora troppi lati oscuri che avvolgono la morte di Lorenzo Nardelli, il 32enne di Salzano, ucciso a causa dei colpi subiti dai cugini Radu Imarin Rusu, che gli hanno letteralmente fracassato alla testa nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana a Mestre, qui in questo ascensore al terzo piano al Civico 9 di Verampa Cavalcavia. Arrivato dopo le 23 ha parcheggiato la sua auto grigia in uno stallo del cortile del condominio, ma dalla sua morte le chiavi della macchina sono irreperibili, chiavi di cui non si ha alcuna traccia, a dirlo anche l'avvocato Jacopo Trevisan, difensore dei cugini, unici indagati del delitto e accusati di omicidio volontario, che al momento del fermo si trovavano seminudi. Non si ha traccia delle chiavi della sua auto? Questo non l'ho appreso per scienza diretta, allora che sia arrivato con l'auto si risulta agli atti di indagini, che non si trovano le chiavi, francamente non lo so, però i miei clienti, uno era in mutande, l'altro era in pagina di calzoncini, corti, quindi le chiavi non le avevano. Le chiavi, francamente non lo so, ma mi sembra anche, potrebbe avvalorare l'ipotesi della presenza di altri soggetti, così come hanno detto i miei, che hanno visto altri soggetti ad allontanarsi. Ancora troppo presto per rilasciare dichiarazioni, così la controparte, l'avvocato Francesco Livieri, illegale dei genitori di Lorenzo Nardelli. E poi c'è l'altro elemento avvolto nel giallo, la porta di ingresso dove non risulterebbe alcun segno di effrazione. Così dalle carte della Procura di Venezia, con il GIP Alberto Scaramuzza, con l'autopsia, che riporta il quadro di un pestaggio bestiale e feroce. Nardelli, ormai ridotto a una maschera di sangue, ha ricevuto il colpo letale quando gli è stato sbattuto il capo contro lo stipite della porta dell'ascensore. Una violenza che i due killer giustificano per il tramite del loro legale, così. Secondo la loro ricostruzione, Nardelli arriva, loro lo vedono, Radu si alza in piedi e Nardelli atterra Radu, con delle pedate, con dei calci. Quindi questo ha stimolato sin da subito una reazione nel mio cliente.